A proposito di gare da brividi, oggi si decidono le finaliste finalmente del play-off scudetto di volley maschile alle 20.30. A Perugia edisce la gara 5 tra gli Umbri e Modena e invece poi si deciderà alla bella anche Civitanova Trento. Servizio Maurizio Colantoni. Una bella che deciderà la finalista di Superlega. Davanti al proprio pubblico ci sarà una Civitanova rinata, risorta anche senza il capitano Smani-Wantorena. Da troppo tempo infortunato. Blengini però ha ritrovato la forza del gruppo, compatto, unito, perfetto nel recuperare una serie di semifinali dallo 0-2 al 2 pari. I punti di forza moltissimi, dal baby cubano Iante alle invenzioni di De Cecco e Regia, finale bordata di Simon e l'arma in più. La forza di Ivan Zeiss è tornata a Civitanova in questa stagione dopo un infortunio voglioso di trovare spazio e soprattutto vittorie e magari un posto in nazionale. Di fronte alla squadra che ha impressionato di più nella stagione, Trento. Perfetta la squadra di Lorenzetti, mix tra esperienza e bella gioventù. In testa un condottiero di 37 anni, il capitano bulgaro Mattei Kasiski. Maestro a guidare un gruppo di azzurri di talento che va da Micheletto fino alla via, gli schiacciatori della nazionale, fino alla regia perfetta di Riccardo Sbertoli. Insomma, tutto in una notte, senza guardarsi indietro, giocando la migliore pallavolo, spettacolare, emozionante, quella della Superlega per un posto verso lo Scudetto. E dunque, siamo agli appuntamenti di oggi con RaiSport. Iniziamo con il tiravolo alle 15.30, c'è la Coppa del Mondo e poi lo sentivamo questa sera. Dalle 20.20 la pallavolo maschile con la gara 5 tra Civitanova e Trento.